A rapina da banca Nolatro, in libertà incondizionata, trasotto d'entra a banca a mano armata, mentre pigliavi i sordi d'u' cassiere, senti gridata a porto o brigadiere. Che va facendo questo tiraturo che mi assomiglia a un rapinaturo e questo pezzo a capo per cappello che ancora non conosce il suo modello? Buongiorno, è giusto a tempo, comandante, che avienno prelevato più contante a via pensiero ad esci fuori a porta e sienno solo solo e senza scorta. Ma moca vostoria si è arrivato mi sienno già una picca sollevato che esienno della banca a rietattia io posso gli tranquillo, piglia mia. E era la domanda fatta da rispunno che avienno io girato per un munno mai un parato, un vino, adesso attendo da avere sempre giusto e così quando vai a cercare sordi in Briesto co' qua siete sopra la faccia io mi visto che senza manco compilare le bullette mi fanno trova pronte le mazzette e su assai onesti che si genti che appenderesse non cercano mai niente. Ma s'arrivi vestuto da tre panni più avevi i sordi ci passano tre anni e dopo che te l'hanno pombristati o i giorni appresso si sono raddoppiati così cercato uno sostegno per il bisogno ti cacciano le sorde e pure lo suono. Gioveno, volessi di ti a mi fidare ma guardannoti mi vieni di pensare se vi stanchi e si ha un galera ma lo trova ma a mia sa faccia tua non me è nova. Però ti dico che s'errore di vestimento è capitato a un vecchio collega mio che ha puntato che ha aiuto un Briesto in divisa per compirare sia c'ento e le ha accostate a ciucchera d'argento. E' buono ha fatto perciò l'altra mattina che ha chiamato della banca pinna rapina invece di arrestare un delinquente ma nette mi ha portato un presidente.